Le reazioni che le braccia avranno saranno reazioni dettate dal lavoro. Vedete che si devono toccare per ritrovare la posizione. Poi dalla posizione partono con l'esercizio non prestabilito, completamente lì. Le reazioni che il compagno fa sono mezze univibere. Un'esercizio non presto un'esercizio non presto, non presto un'esercizio non presto! Il nostro corso è un'esercizio che si riuscita nemmeno un'esercizio. Il nostro corso è un'esercizio che si tratta di da un'esercizio di un'esercizio. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.